Buonasera a tutti, scusate il finito. Buonasera ai consiglieri. Volevo informare questo consiglio al pubblico che nella seduta di questa sera la Commissione Civiche Benemerenze, che ho l'onore di presiedere, ha deciso di conferire l'onoreficenza della Bondino d'Oro 2012 alle seguenti persone. Professor Luraschi Giorgio, signor Cavalleri Giorgio, signor Ferrario Cargo. Inoltre è stata fatta la richiesta formale alla Giunta Comunale di intitolare una sala di balazzo Cermezzi al defunto dirigente Arturo Di Giorgio. Nella fase specie è stata data l'indicazione di procedere alla titolazione della sala di balazzo Cermezzi. Grazie. Grazie. Grazie.